Ciao ragazzi, siamo in partenza per una nuova avventura, questa volta la nostra destinazione è il Madagascar. Andremo a viaggiare nella zona est del Madagascar dove c'è la più alta densità di lemuri, di animali, quindi il nostro obiettivo è fotografia di wildlife. Andremo a cercare lemuri che vanno dall'Indri, che è il lemure più grande, al lemure più piccolo, notturno, una varietà incredibile di specie e oltre ai lemuri camaleonti, rane, serpenti e tutta l'incredibile fauna del Madagascar. Sarà un viaggio abbastanza impegnativo perché fotograferemo prevalentemente nella giungla, quindi avremo necessità di muoverci rapidamente, di seguire gli animali, di gestire condizioni di luce difficili, di essere il più possibile agili e veloci nei nostri spostamenti. L'elemento più importante però, se vogliamo, in questo viaggio sarà la gestione della luce, perché fotograferemo non solo in condizioni di luce scarsa, stando all'interno della foresta, ma anche in condizioni di luce scadente, se vogliamo, perché all'interno della foresta la luce filtra e quindi tende a essere a chiazze, quindi a provocare delle situazioni di contrasto molto elevato, macchie di luce, macchie di ombra. In queste situazioni io utilizzo sempre il flash, quindi penso che scatteremo con il flash 99,9% del tempo. In questo viaggio sperimenterò un flash diverso dai flash che ho utilizzato precedentemente, è precisamente quello che vedete qua, che è un Profoto A1X. Nei miei viaggi precedenti ho sempre utilizzato l'X500 della Fuji, che è un flash molto performante, molto affidabile, ma in questo viaggio farò un po' un salto nel mondo della gestione della luce, se vogliamo, da studio. Profoto è un'azienda famosa in tutto il mondo per le luci da studio, sia luci continue che luci flash. Recentemente hanno prodotto un flash da slitta, un primo modello che si chiama A1 e un secondo modello un pochino più evoluto che è l'A1X. Le caratteristiche fondamentali di questo flash, l'ho avuto modo di provarlo in questi giorni in studio, ma non l'ho ancora provato sul campo, sono intanto una qualità molto elevata della luce, è possibile gestire l'angolo in maniera molto molto semplice, è possibile utilizzare modificatori come diffusore o adattatore grandangolare, ma poi una grande affidabilità, una velocità, una raffica incredibile. La A1X è in grado di seguire 12-14 fotogrammi al secondo della X-T3, non surriscalda mai, quindi è un flash estremamente affidabile quando si deve fotografare tutto il giorno e scattare centinaia, migliaia di foto con il flash a raffica uno dopo l'altro. Una piccola limitazione, se vogliamo, del flash A1X è che se vogliamo utilizzarlo come flash TTL non possiamo montarlo sulle fuci direttamente sulla fotocamera, quindi in questo modo. Peraltro questo setup, essendo il flash più grande dell'X500 risulterebbe un pochino sbilanciato, quindi utilizzerò un setup leggermente diverso, cioè utilizzerò una staffa, una staffa che mi consente di montare la fotocamera e poi due accessori su queste due alette. Quello di sinistra ho montato semplicemente un adattatore per il flash che quindi a questo punto posso andare a posizionare qui, semplicemente in questo modo. La slitta di destra lo utilizzerò per una GoPro per riprendere il lavoro che farò. A questo punto il flash va attivato, vedete l'insieme è molto compatto, tutto sommato anche abbastanza leggero, adatta a una fotografia dinamica veloce come la fotografia nella giungla, il flash però a questo punto naturalmente va attivato con un trigger. Ci sono due trigger disponibili, conto di testarli entrambi sul campo, uno è il trigger classico della Profoto, che si utilizza anche in studio, consente di controllare diversi flash su diversi canali, è alimentato da due batterie mini stilo. L'altro trigger è un trigger molto più semplice, molto più piccolo, molto più compatto, non ha la possibilità di gestire diversi canali, ma funziona in modalità TTL come pure l'altro. Ed è, ha semplicemente due modalità, TTL e manuale. Quindi questo è sufficiente montarlo sulla slitta, accenderlo e lui automaticamente controlla, attiva tutti i flash collegati, tutti i flash accesi. Nel mio caso naturalmente ne utilizzerò soltanto uno. Il vantaggio di questo setup, oltre alla compattezza in qualche modo, è anche che qualora fosse necessario cambiare la luce, per esempio nella situazione macro, è molto agevole spostogliere il flash e utilizzare per esempio una luce radente, una luce dall'alto, una luce frontale, una luce da dietro e poi riposizionarlo nella sua slitta. Come vedete è molto molto semplice. Questo trigger si viene alimentato da una batteria interna, si ricarica tramite un USB, dovrebbe avere una durata della batteria addirittura intorno alle 20-30 ore, quindi ampiamente sufficiente. Vi farò sapere appena avrò modo di provarlo sul campo. Questo è più o meno il grosso dell'attrezzatura, il resto non sono altro che accessori, batterie di ricambio, power bank per ricaricare sul campo qualora dovesse essere necessario, trigger, registratori, GoPro eccetera eccetera, e attrezzatura per le riprese video per raccontarvi il viaggio. Quindi GoPro, batterie, gimbal, stabilizzatori, cavi di sincronizzazione, cavi di ricarica, accessori vari. Però il grosso dell'attrezzatura come vedete è molto molto leggero. Stiamo parlando di un corpo macchina, tre obiettivi, un flash. Ci vedremo sul campo, vi racconterò questo viaggio e al ritorno naturalmente vi racconterò le mie impressioni riguardo a questa attrezzatura ed anche a questo nuovo flash che sto andando a sperimentare. A presto ragazzi!